Ecco, vedi, sì, qui trovo di noi, il ponte deve arrivare a terra, è bravo. Ma vedi che non ci impiega tanto ad arrivare. Ma là c'è anche la parte che si alza per far passare le navi. Quella roba lì, che cosa sono quelle luci là? No, vi ho pensato forse lì in centro. Sì, perché dovrebbe essere segnato il centro del ponte, così i confine. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.